A riscosso molto successo la seconda edizione della serata del gnocco fritto in piazza che si è tenuta sabato 9 luglio a Rivara, un appuntamento culinario targato a proloco di Rivara che in collaborazione con il comune ha radunato tantissimi concittadini ma anche persone provenienti da altri paesi che hanno preso parte molto volentieri alla termessa gastronomica. A far ballare grandi e piccini è stata la musica del DJ Prince accompagnato dal vocalist Schizzo che ha lietato e movimentato la serata. Ha preso parte la manifestazione anche l'associazione Forza e Dozzi con una dimostrazione di cane buon cittadino. Grazie a tutti. Grazie a tutti.